Lì che fai solo solo questo là, fai nel suo filmino eh, qua No c'è ruota, no, si doveva cagare una busca già, vedi che c'è il filmino, vedi che sta camminando Il film Nicola diematica Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.